Il 9 agosto ricomincia il Rossini Opera Festival e dovrebbe essere il momento di restituire il teatro Rossini al festival. Possiamo togliere il condizionale oppure c'è ancora qualche dubbio? Sì, allora il 3 agosto è stata già convocata la Commissione Comunale Pubblico Spettacolo che valuterà la situazione generale sul teatro. Un teatro che non è stato interessato dal cantiere in questo caso, che in realtà riguardava la Sala della Repubblica. Un cantiere che ha lavorato bene e quindi consentirà poi a regime di avere anche un ridotto all'interno di un teatro, di un teatro importante e storico come appunto il teatro Rossini. Gli interventi, i lavori sul cantiere della Sala della Repubblica concluderanno definitivamente nel mese fine di settembre, primi di ottobre. In queste settimane in realtà andremo ad interrompere i lavori proprio per consentire il regolare svolgimento del ROF e quindi consentire che con le uscite di sicurezza oggi che in parte potrebbero conflittuare rispetto a un'area di cantiere in realtà non conflitzeranno, ovvero saranno disponibili e fruibili come uscite di sicurezza vere e proprie del teatro. Un teatro che, lo ricordo, ha ottenuto anche un ulteriore finanziamento importante dal PNRR, dal bando cosiddetto Energia, di 233 mila euro, quindi sono sia sul teatro sperimentale altri 233 mila euro che sul teatro Rossini 233 mila euro appunto, ulteriori interventi che andremo poi a realizzare nel 2023 per tutto quello che riguarda l'impiantistica e migliorare ancora una volta la parte di efficienza energetica di un teatro storico importante. Il teatro avrà tutti connotati di sicurezza per lo svolgimento del ROF, ci si prende una pausa dei lavori per poi ricominciarli dopo la rassegna? Esatto, la priorità è e resta la sicurezza, quindi in questo momento abbiamo preferito rinviare l'inaugurazione della Sella della Repubblica per consentire un corretto svolgimento del ROF in sicurezza. Come ripeto, ribadisco, nella settimana prossima si riunirà la Commissione Comunale Pubblico Spettacolo proprio per valutare esattamente tutte le questioni nel merito.